L'associazione Arco Dance ha sbaragliato qualche giorno fa la concorrenza in una delle competizioni di line dance più importanti a livello nazionale, aperta a tutte le federazioni di amatori e professionisti. Al Brianza Dance Festival, una tre giorni dedicata alla danza sportiva libera, 11 allievi della squadra arcense hanno conquistato un primo, un secondo e un quarto posto nella categoria line dance over 35 con tre coreografie impeccabili. Artefici di un successo che va oltre le più rose e aspettative sono state anche le insegnanti e coreografe Gabriella Farina e Nathalie Junkman che hanno curato le coreografie. Cinque allieve erano alla loro prima esperienza per questo le emozioni sono state ancora più grandi hanno commentato Gabriella e Nathalie. Il nostro obiettivo è ora quello di organizzare una gara di line dance nell'Alto Garda. Nata nel 2012 su impulso di Gabriella Farina, Arco Dance conta oggi circa 100 soci, donne e uomini di tutta l'età che partecipano costantemente a corsi e laboratori, oltre che a manifestazioni sul territorio.